Bentornate e bentornati sul canale. Vi è mai capitato di aver cancellato per sbaglio i contatti dalla rubrica del vostro iPhone e pensare di averli persi per sempre? Nel video di oggi vedremo quali sono i passaggi da seguire per provare a recuperare i contatti che abbiamo cancellato. Cominciamo. Prima di tutto dobbiamo capire che non si può eseguire un backup con iTunes e iPhone se abbiamo già perso i contatti altrimenti si andrebbe a sovascrivere il vecchio backup cancellando tutto. Ricordiamolo bene. In questo video oltre a vedere come recuperare i dati con iCloud vedremo anche come recuperare i contatti nel modo più semplice possibile. Metodo numero uno se disponiamo di un backup su iCloud con ancora i nostri contatti questo sarà un ottimo modo per riuscire a ripristinare sul nostro iPhone. Vediamo quali sono i passaggi da seguire. Per prima cosa apriamo il browser sul nostro computer o il nostro Mac e andiamo sul sito iCloud.com. Quindi inseriamo le nostre credenziali per eseguire l'accesso al nostro profilo di iCloud. Se richiesto inseriamo il codice per l'autentificazione a due fattori. Clicchiamo ora sulle impostazioni relative al nostro account e da questa pagina otterremo alcune impostazioni per ripristinare i nostri dati. Dati come contratti segnalibili eccetera quindi facciamo clic su ripristina contatti o ripristina contatti e promemoria. Dipende da cosa vogliamo ripristinare sul nostro iPhone. All'interno di questa schermata saremo in grado se presenti di selezionare singolarmente i contatti che vogliamo ripristinare su iPhone. Quindi facciamo clic su ripristina. Ci vorranno un paio di minuti non di più. Se però non abbiamo eseguito un backup in precedenza allora potrebbe essere utile usare uno strumento come Dr. Phone di Wondershare che aumenta la possibilità di poter recuperare i dati perduti dal nostro iPhone come ad esempio i contatti. Avviamo quindi Dr. Phone sul pc o sul mac e scegliamo la voce recupero dati. Scegliamo recupero dati ios quindi connettiamo il nostro dispositivo al pc o al mac e l'applicazione di Dr. Phone lo rileverà automaticamente. Dal pannello delle opzioni selezioniamo ripristina dal dispositivo ios e tra i vari dati selezioniamo quelli che vogliamo recuperare tutti oppure solamente alcuni dei contatti. Eseguiamo dunque una scansione e se vogliamo possiamo anche eseguire una scansione estesa per aumentare la probabilità di riuscita. Quindi attendiamo che termini il processo e verranno mostrati i contatti recuperati. Facciamo solo attenzione a non sconnettere il nostro iPhone. Ora selezioniamo i contatti che vogliamo recuperare e scegliamo se ripristinarli sul pc o direttamente su iPhone. attendiamo il tempo necessario che dipenderà dalla quantità di contatti presenti e a questo punto dopo qualche istante questi ultimi dovrebbero essere stati ripristinati su iPhone. Questi sono i due modi utili per recuperare i contatti di iPhone. Spero che questi metodi o almeno uno dei due vi sia stato utile. Vi ricordo che in descrizione potrete trovare il link per Dr. Phone direttamente dalla pagina ufficiale di Wondershare. D'altra parte vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri tutorial e di lasciare un mi piace per dimostrare l'apprezzamento per il nostro lavoro. Lasciate commenti in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!